Partita la finale 5.000 metri a punti ed è subito Giulia Presti con Federici De Rio all'esterno Montico che si porta in prima ruota lei che inizia a lavorare l'andatura per il gruppo nel passaggio dei meno 24 ancora si cercano le posizioni all'interno del gruppo ed è ora allievi maschi all'appello intanto allievi maschi all'appello suono della campana entriamo nel giro che assegna i primi punti è Montico che si lancia all'esterno Giulia Presti ecco i primi punti 4 4 6 3 4 8 quindi Presti Montico ora è Federici che rilancia subito l'azione con De Rio prendono la campana di meno 21 Federici De Rio Presti Montico sotto l'azione di Federici si è creato subito un gap importante 410 366 questi punti del passaggio ora si rialzano le quattro atlete Federici De Rio Presti Montico erano loro le predestinate di questa gara quindi gara tattica tra di loro ma anche poi subito con Federici che va a rilanciare l'azione sembra patire Montico il cambio passo di Federici quindi 4 4 8 entrata in diffida 4 46 366 quindi Presti De Rio al passaggio e ora Montico si è riportata sotto 471 ammonita ed eccole ora la campana di meno 17 si è riformato il quartetto con Montico Presti De Rio Federici erano le protagoniste attese di questa gara e non hanno tradito e ora Montico che lancia l'azione 4 4 6 3 4 8 quindi Presti e Montico 3 3 8 ammonita 3 3 8 ammonita e andiamo a guardare la testa dove ora Federici e lei a rilanciare alla campana di meno 15 Federici Presti De Rio quando Federici fa cambio passo Montico va in sofferenza eccole ora ai punti 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 4 10 e 4 46 Federici Presti ancora che il terzetto rallenta si rialza nella sua azione Anastasia Federici è rallentato l'atleta del roller green poi Giulia Presti roller Civitanova poi De Rio patinatori Spinea poi Montico Spidi Villers latina ancora Federici ha preso la campana di meno 13 che è fermato un terzetto in testa ormai Federici Presti e De Rio 4 4 6 410 quindi Presti e Federici ora si rialzano Montico con il suo passo torna sotto ha mantenuto il suo passo Montico quando c'è rallentamento in testa lei riesce a tornare sotto campana di meno 11 ora è Giulia Presti Federici De Rio eccole al passaggio per i punti 446 410 quindi Presti e Federici 1 7 2 ammonita ed ecco lì ai punti il quartetto di testa si è riportato sulla campana dei meno 9 che viene presa con Federici in testa poi Presti e De Rio Montico 2 5 1 ammonita ed ecco lì ai punti 4 4 6 e 410 quindi Presti e Federici al passaggio intanto in testa al gruppo abbiamo Bedon abbiamo guardato poco il gruppo perché la gara si è fatta tutta qua in testa sono peraltro in 4 ora è Montico che si è portata in testa i punti se li sono divisi tra di loro queste atlete e ora Montico che lancia l'azione per i punti 3 4 8 4 4 6 quindi Montico Presti va a prendere i punti Montico ora è Federici che rilancia l'azione con Giulia Presti che va subito a chiudere il buco prendono la campana di meno 5 e a questo punto si sono avvantaggiate rispetto a Montico e De Rio e allora Federici ora Presti hanno ripreso il gruppo sono sulla coda del gruppo 4 4 6 410 quindi Presti e Federici ora si rialzano mentre Pietro si è formata l'altra coppia con Montico e De Rio allora Federici Presti poi Montico e De Rio al passaggio di meno 3 campana ed entriamo nel giro che assegna punti con Federici e De Rio che sono sulla coda del gruppo peraltro gruppo in doppia fila indiana quindi non c'è molto spazio per passare voglio fare molta attenzione 410 e 446 quindi Federici e Presti ora Giulia Presti cerca di farsi largo del gruppo mentre dietro Montico e De Rio campana ultimo giro ed è lanciato lo sprint per il 3-2-1 con Giulia Presti dentro al gruppo coraggiosa perché in mezzo ci fa fatica in tante pade cade Anastasia Federici intanto Presti va a chiudere e lei è la campionessa italiana che è stata una capitata della Federici incredibile che si rialza e va comunque a concludere poi Montico questo passaggio poi del giro